Si avvicina la data del 25esimo congresso nazionale della Fadoi, la nostra società scientifica di medicina interna che quest'anno, a causa della pandemia di Covid-19, si svolgerà in modalità virtuale, con tutti i partecipanti online e un piccolo numero di relatori presenti in una sala a Roma collegata con il resto d'Italia, utilizzando una nostra originale piattaforma elettronica che simulerà un vero e proprio spazio congressuale, con aule, stand, punti d'incontro. Sarà il primo congresso della nostra storia in questa forma del tutto originale e anche il primo grande congresso in Italia che verrà svolto con questa modalità. L'appuntamento è per il 26 settembre alle 14.30 in diretta per la cerimonia inaugurale, nella quale vi sarà la mia relazione come Presidente nazionale e poi una lettura sui risultati dello studio Caravaggio condotto da Fadoi e pubblicato su New England Journal of Medicine pochi mesi fa sotto la direzione scientifica dell'amico Professor Giancarlo Agnelli. Infine una relazione sull'esperienza Covid fatta da Ranieri Guerra che ha contribuito alla gestione della pandemia sia come Assistant Director General dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sia per conto del Ministero della Salute. Questa è la parte istituzionale del congresso. Poi ogni giorno dal 26 al 29 settembre dalle 14.30 vi saranno le sessioni in diretta e la possibilità di acquisire crediti ECM partecipando attivamente, rimanendo collegati online ma anche con la possibilità di far domande. Si potranno anche seguire le comunicazioni dei tanti che hanno inviato poster, oltre 500 sono arrivati alla segreteria scientifica, si potranno vedere le comunicazioni, i poster, ognuno potrà votare anche per i poster e le comunicazioni che considera migliori e chi riceverà più voti sarà premiato a fine congresso. potete già iscrivervi ai tanti tradizionali corsi Fadoi su vari temi che vedete pubblicati sul nostro sito www.fadoi.org che vi consiglio di andare a consultare. Si tratta dei corsi degli infermieri dell'animo, i nostri infermieri di medicina interna, il corso dei giovani Fadoi sulla moderna semiotica e poi corsi su malattie infettive, malattie rare, anemie, fine vita, insufficienza respiratoria e ventilazione non invasiva, scompenso cardiaco, diabete, vaccini. I temi sono quelli abituali, nostri, della medicina interna ma saranno anche in qualche modo rivisti alla luce della nostra esperienza recente di lotta alla pandemia. Vi sarà anche un simposio sulla governance al quale parteciperanno il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ma anche otto ex Ministri della Salute che hanno accettato di dare il loro contributo e di partecipare al Congresso rispondendo ad alcune domande sul presente e sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Tutto per riflettere sulla medicina interna, disciplina antica ma modernissima e sempre in evoluzione per affrontare le criticità e le sfide del Servizio Sanitario Nazionale. Proprio come è accaduto nel corso dei mesi recenti che ci hanno visto in prima fila a combattere il Covid in tutta Italia, tenendo conto e curando oltre il 70% dei pazienti con questa grave malattia. Vi invito quindi a iscrivervi online al Congresso e a scegliere i corsi ai quali volete partecipare. Ricordo che l'iscrizione è completamente gratuita. Vi invito a diffondere il programma del Congresso, a stimolare la partecipazione di amici e colleghi, a organizzare anche piccoli gruppi di ascolto e di visione nei vostri ospedali o nei vostri studi. Questo è importante perché il numero dei contatti farà la differenza e confermerà il successo della manifestazione e la forza della Fadoi. Arrivederci al 26 settembre.